Organizza anche tu eventi in provincia di Sondrio? Dalle sagre paesane, feste in piazza, eventi musicali, spettacoli, eventi enogastronomici, eventi culturali, sportivi per bambini, insomma eventi di ogni genere. Quando organizzi qualcosa, il tuo sogno è quello di avere il sold out, ovvero il tutto esaurito, vero? Oggi ti diamo la possibilità di raggiungere migliaia di persone grazie a calendario valtellinese. Attraverso la nostra efficace ed esclusiva strategia, anche i sassi sapranno del tuo evento. Selezioniamo il pubblico a cui rivolgerti, le zone che vuoi coprire, le persone interessate e la tua iniziativa. Realizziamo gratuitamente video e articoli dedicati che lavoreranno per te. Tu devi solo attendere la gente al tuo evento. Contattaci subito e non perdere altro tempo. Chiama per informazioni al 335 60 90 252.